Santeramo in Colle, referendum Trivelle, votare sì il 17 di aprile. Il perché lo vedremo questa sera alla conferenza. Ne parliamo proprio con il sindaco Michele D'Ambrosio e la dottoressa Silvia Russo, comitato no petrolio, sì energia alternativa. Sindaco D'Ambrosio, allora perché il 17 aprile bisogna votare sì? Intanto perché dobbiamo chiamare lo Stato ad una responsabilità, il Parlamento ad una responsabilità che è quella di una visione strategica dell'approvvigionamento energetico. Non si può puntare solo e unicamente in maniera forte sul petrolio o sul gas e quindi anche sulle energie rinnovabili. Sulla energia rinnovabile in cui la Puglia è abbondantemente a credito verso lo Stato. Noi produciamo più di quello che mettiamo poi a consumo. E dunque la ragione del sì a che non si rinnovino le concessioni per poter estrarre petrolio e gas dal nostro mare è questa. Una visione più strategica. Noi abbiamo già dato perché vogliamo dare al nostro territorio uno sviluppo che è uno sviluppo intanto ambientale perché riguarda la salute e il benessere delle persone. Ma anche economico, il turismo, la pesca che con il continuo mare inquinato o con un mare che potrebbe avere anche una immagine esterna non blu, non bello, non attrattivo, naturalmente cadrebbe questa visione che noi vogliamo dare del nostro paesaggio e del nostro ambiente. Dunque è opportuno andare a votare perché è interpellato il cittadino. Se non si vuole andare a votare questo fa parte anche di una possibilità di dire vorrei che continuassero ad andare le cose così come stanno. Dottoressa Silvia Russo, cosa ne pensa della scarsa informazione? Perché comunque durante il convegno si è parlato anche di questo. Sì, è chiaro che il tempo è poco e questo è voluto, è fortemente voluto dal governo il poco tempo per informare i cittadini. Perché questo? È chiaro, allora, consideriamo che questo referendum è stato chiesto da nove regioni, nuovi consigli regionali e poi uno è venuto meno. Quindi sono nove consigli regionali che hanno chiesto questo referendum. Il governo non ha concesso la conferenza Stato-Regione, quindi ha chiuso il dialogo, ha alzato un muro, quindi anche le istanze dei territori che tramite i presidenti che ne facevano megafono sono state tra virgolette non ascoltate e quindi adesso questo referendum è l'unico strumento per cercare di riuscire a riportare l'attenzione. Cioè i cittadini non vogliono scelte calate dall'alto, vogliono, tra virgolette, tutelare il proprio territorio e vogliono voltare pagina. Dicono no alle fonti fossili, anche perché ci sono documentazioni che ci impegneremo, ci stiamo impegnando tutti a girare i territori per informare, che testimoniano che sono fortemente impattanti, a partire dalle prospezioni tramite Ergan, fortemente impattanti sui fondali marini, sull'ecosistema marino, ma anche sulla salute stessa delle persone, ha la coltivazione in sé per sé, sotto le piattaforme si crea biaccumulo, quindi pesce al mercurio che poi viene venduto nei banchi delle pescherie e quindi poi arriva anche all'uomo. Quindi tante sono le cose, anche perché non ne vale l'impresa. Allora si è calcolato che in Trivellano, allora a largo della Puglia ci sono 12 richieste di concessioni, la maggior parte è multinazionale straniere e si è calcolato che tutte le richieste delle multinazionali a livello nazionale coprirebbero il fabbisogno energetico nazionale italiano del pari a 3-6 mesi. Quindi capite bene, vale la pena trivellare, quindi rovinare le nostre coste, i nostri ecosistemi, perché cosa per 3-6 mesi di fabbisogno energetico? Grazie.